Inizierà domenica prossima 19 febbraio con le gare del circuito Prestige Juniors di Raffa dedicate all'Under 15 e all'Under 18 questo appuntamento così importante per le bocce. Ne parliamo quindi con il presidente della bocciofila Tolentino Claudio Pascucci che ospiterà proprio l'inizio di questo particolare torneo. Buonasera, vorrei dire subito che questo è un circuito che è composto appunto di 15 gare in tutta Italia e a cui dovranno partecipare e potranno partecipare i ragazzi che intendono poi fare una classifica nell'operato nel corso dell'anno agonistico. Noi siamo la prima tappa per quest'anno e quindi abbiamo avuto anche un discreto numero di iscritti, di adesioni. Abbiamo avuto per quanto riguarda la categoria Under 18 39 iscritti e 42 per quanto riguarda la categoria Under 15. A cui si aggiungeranno numerosissimi ragazzi Under 12 che invece giocheranno a squadra, a squadre. Quindi per ora i presupposti sono ottimi per quanto riguarda la competizione di domenica. Si inizierà sin dalle prime ore del mattino e si proseguirà fino a tardo pomeriggio sera? Esattamente, si comincia alle 9 di mattino nella sede del nostro pocciotromo giocheranno gli Under 12 che dovrebbero essere così come pronostico una sessantina, settanta. Speriamo non siano molti di più altrimenti siamo nei guai per quanto riguarda l'accoglienza soprattutto per soddisfare le esigenze del pranzo. Come sapete, insomma, siamo dimezzati di queste potenzialità ora e quindi speriamo vada tutto bene. Questa è la prima delle tappe che si disputeranno qui nella nostra regione? Sì, la prima delle tappe è in Italia. Infatti parteciperanno atleti ed atlete da tutte le parti d'Italia, dalla Calabria fino a Lombardia e fino al Veneto. Insomma, da tutte le parti d'Italia. E la bocciofila Tolentino si prepara per delle novità? Sarà infatti interessata, come abbiamo ricordato più volte, da un importante ampliamento? No, a forza di ricordarlo ci siamo portati a Scaronia perché non ci hanno approvato il progetto. Sapete che queste cose sono legate molto alle questioni burocratiche, ai cavilli burocratici. E vengono proposte, ma come proposta? Come dire, ah, guarda che sta succedendo questo, tu puoi accedere a quest'altro. Però alla fine trovano il cavillo e bocciano. Quindi loro hanno fatto bella figura chi la proposta, ma purtroppo non sempre vengono bene le cose. L'attività è quindi ripartita anche in questo 2023. Quali sono le prossime gare che vi vedranno protagonisti? Sì, quasi subito dopo di questa bellissima, importantissima manifestazione, ci sarà la prossima di grande spessore, che è quella senior, del lunedì di Pasqua, quindi il 10 di aprile. Quella è una gara riservata agli atleti senior maschi di categoria A.